La popolazione della Terra ci ha messo centomila anni per arrivare a un miliardo, e poi solo altri cento per due miliardi, e solo cinquant'anni per raddoppiare quattro miliardi negli anni settanta. Siamo quasi a otto miliardi ora. Allora, Bartlett fa l'esempio di un becker, con un solo batterio dentro il quale si divide e si raddoppia ogni minuto. Se mettete il primo batterio dentro il becker alle undici, ed è completamente pieno, a mezzanotte, a che ora il becker sarà stato mezzo pieno? Alle undici e cinquantanotte. Che è l'ora in cui siamo? Tra quarant'anni, trentadue miliardi di persone lotteranno per sopravvivere. Inutilmente. Siamo a un minuto a mezzanotte. Ogni male globale che affligge la Terra si può ricondurre alla sovrappopolazione umana, ma un serio controllo delle nascite non verrà mai attuato. Scandaloso! Violazione dei miei diritti, invasione della mia privacy! Non ditevi che andiamo a fare! E intanto continuiamo ad accredire il nostro ambiente. Abbiamo avuto cinque grandi estinzioni nella storia della Terra. E se non prendiamo coraggiosi provvedimenti, la sesta estinzione sarà la nostra.